VEGGENTE VEGGENTE, cosa accade? Provo una... spiacevole sensazione. Una visione? No, eppure c'è qualcosa che non va. I mecha non attaccano, ma neppure si difendono. Come se avessero rinunciato a combattere non appena la battaglia iniziata. Impossibile! Codessa è una posizione strategica. Mai alcuno l'abbandonerebbe. Forse che abbiano delle forze celate su Mekanis. Rinforzi segreti... Potrebbe darsi. Vostra altezza, Shulk e gli altri sono in pericolo. Mi concedereste di utilizzare un Avres. Intendi prestar loro soccorso. Ha bisogno di te, Quivi. Non ho avuto una visione. Tuttavia, ho avvertito qualcosa. Mekanis si sta risvegliando. Non ho avuto una visione. Ho avuto una visione.